Una cosa è certa, il Consiglio Comunale di oggi a Taurianova non passerà inosservato, soprattutto dopo le bordate dell'opposizione, sul contestatissimo avviso pubblico per la selezione e la formazione di operatori per la corretta gestione dei rifiuti voluto dall'amministrazione del sindaco Fabio Scionti. Si prevede una seduta incandescente con un ordine del giorno diviso in cinque punti con l'argomento avviso, anche se non citato, ma compreso forse nelle comunicazioni del sindaco, sollevato dalla minoranza consigliare amplificato dalla stampa, come un elemento che occuperà buona parte della probabile accesa discussione. A scorrere gli argomenti presi in considerazione dalla Presidenza del Consiglio Comunale risalta subito agli occhi il punto 3, variazioni al bilancio di previsione 2017-2019, che in prospettiva del ricorso presentato alla Corte dei Conti del Comune di Taurianova, dopo la bocciatura del piano di riequilibrio finanziario pluriannale avvenuto lo scorso maggio, il cui esito dovrebbe concretizzarsi in questi giorni, acquista una luce diversa. Il piano di riequilibrio è infatti un programma nel quale l'ente descrive minuziosamente le entrate e le uscite e detta le strategie in dieci anni per poter ritornare in una situazione virtuosa risanando i conti. L'iter è iniziato nel 2013, ma la Corte Contabile ora lo ha respinto. Il rischio del dissesto e del commissariamento sulla spesa economica dell'ente, se il ricorso non andrà a buon fine è alle porte e l'idea di variare qualche voce finanziaria prima che arrivi la spada di Damocle della Corte Contabile è plausibile, anche se il condizionale in questi casi è d'obbligo. Una sorta di azione preventiva da parte della maggioranza di centro-sinistra per non restare successivamente intrappolati nelle strettoie austere dell'amministrazione controllata in tema di bilancio.